Movida molesta, vandalismi agli stabilimenti balneari Coltellate aggressioni, Pasqua turbolenta a gabice Malore per un apicoltore, muore avvolto da uno sciame Morto a 50 anni il fondatore della MCS Mobili Porto di Pesaro, si punta ad accelerare il dragaggio Musica Musica Benvenuti cari telespettatori e care telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione di Rossini News telegiornale di martedì 19 di aprile che arriva all'indomani di un weekend lungo di Pasqua e Pasquetta all'insegna di diversi episodi di cronaca Cominciamo da Pesaro dove tornano alla ribalta diversi casi di Movida molesta Vediamo È stato il primo weekend con gli alberghi riempiti all'insegna del turismo sportivo È stato il primo pienone di una Pesaro di Pasqua e Pasquetta a cui ha strizzato l'occhio il bel tempo ma non è mancato neppure il primo contorno di vandalismi di primavera Nemmeno il tempo di cominciare ad allestire gli stabilimenti balneari per l'estate che verrà che già i bagnini si ritrovano cabine sfondate maniglie di velte È il caso della zona 27 già bagnigliole collocata in un lungomare nazareo sauro che continua periodicamente a degenerare in Movida alcolica molesta che si traduce in danneggiamenti Nella notte di Pasqua per un controllo io e mia moglie veniamo giù per essere sicuri che di andare a letto tranquilli eravamo in giro e abbiamo visto che dei ragazzi scendere in spiaggia, sono tornati su, mia moglie è scesa su nello stabilimento abbiamo visto queste quattro cabine con le relative maniglie tutte rotte e tutte di velte Ci sono i danni e poi c'è l'ubriachezza molesta che diventa un problema anche per gli alberghi come spiega lo stesso Casoli, titolare pure della Diacento Hotel Flying Infatti qui è una zona molto 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 trafficata dai ragazzi ubriachi, minorenni soprattutto e questi bar qui davanti purtroppo si conoscono ma non voglio parlare di bar voglio solo chiedere un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine perché la stagione ancora non è iniziata, noi apriremo l'hotel il 22 e avere tutto questo casino sotto l'hotel i clienti si lamentano già è successo l'anno scorso e non vorrei che successe anche quest'anno Gli esercenti però non ci stanno a fare da vittime sacrificale vogliono più deterrenti dai presidi di controllo alle telecamere Faremo denunci contro i gnoti e anche per una tutela nostra nei nostri confronti e poi faremo un esposto e quest'anno faremo questo esposto vediamo se altri miei colleghi la vorranno firmare se no andrò avanti per la mia strada e ancora cronaca ci spostiamo però da Pesaro a Gabice Mare dove la Pasqua è stata turbata da due episodi una coltellata ricevuta da un giovane in discoteca e un'invasione in campo con pestaggio durante un torneo di calcio giovanile di Pasqua 5 ore di vuoto mentale prima di accorgersi di aver ricevuto una coltellata e quanto accaduto nella notte fra Pasqua e Pasquetta all'esterno della discoteca Baia Imperiale di Gabice Monte 5 ore di buco sono il contenuto della testimonianza ricevuta dai carabinieri di Gabice da parte di un ventenne di origine russa residente a Vallefoglia che sarebbe stato colpito da un fendente sotto l'ascella ferita lieve che attenua soltanto alla gravità dell'accaduto di un episodio dai toni incerti il giovane in questione infatti si è accorto della ferita solo a fine nottata ovvero dopo che alla colazione delle 5 di mattina degli amici gli hanno fatto notare che perdeva sangue dalla maglietta il ventenne si è accorto della ferita ha deciso di andare al pronto saccorso e da lì sono scattate le indagini il ragazzo ha detto soltanto di ricordarsi di essersi trovato in mezzo a un gruppetto di ragazzi che non conosceva c'è stato qualche contatto a cui però non ha dato troppo peso ora i carabinieri valutano le immagini di video sorveglianza per avere elementi aggiuntivi di un episodio che si accompagna ad una nottata in cui si registrano anche due ragazzi che hanno raccontato di essere stati derubati in discoteca uno di una collanina, un altro di 20 euro e dalla discoteca passiamo al campo sportivo perché è stata davvero una Pasqua turbolenta a Gabice qui allo stadio Magi di Gabice Mare in questi giorni di Pasqua era previsto il torneo Regins Cup con decine di squadre da tutta Italia presenti assieme a centinaia di ragazzi, calciatori e le loro famiglie proprio la domenica di Pasqua questo stadio è stato teatro di un episodio davvero allucinante si stava infatti giocando la partita a categoria esordienti fra la squadra ternana dell'Accademia e quella romana del Ponte di Nona a un certo punto il match degenere in una zuffa fra dodicenni in cui interviene l'allenatore della squadra Umbra Francesco Latini a fare da pacere per tutta risposta un quarantenne padre di un giovane calciatore della squadra romana invade il campo, colpisce con un pugno l'allenatore 33enne facendolo rovinare a terra dopodiché lo colpisce con un calcio alla schiena procurando una lesione al rene come diagnosticato all'ospedale di Cesena dove l'allenatore è stato ricoverato episodio sconcertante che costerà una denuncia e un daspo all'aggressore mentre l'allenatore attraverso Facebook ha detto di stare bene nonostante tutto così come attraverso Facebook la società ternana ha voluto dissociarsi dall'accaduto è ancora cronaca, ci spostiamo ora nelle campagne di Urbino dove è stato trovato morto un apicoltore avvolto da uno sciame uscito da arnie rovesciate gli accertamenti medici hanno oggi chiarito che l'uomo è morto per un malore e non per uno shock anafilattico vediamo uno sciame d'api sopra il corpo senza vita di Domenico Enrico Caputi è stata questa la scena drammatica che si sono ritrovati di fronte moglie e figlio intorno alle ore 13 di Pasquetta una tragedia che si è consumata nelle campagne di Pieve di Cagna vicino a Urbino ai danni di un 66enne pensionato originario di Carpegna ma da tempo residente in quella zona Caputi, apicoltore per passione, era uscito di casa la mattina per potare alcuni rami diventati di impiccio per le arnie di api un'operazione che ha però portato l'uomo a cadere sopra l'arnia ribaltandola di conseguenza l'uomo è stato trovato ricoperto da centinaia di punture di ape ritrovate sul suo corpo da parte dei soccorritori ma non c'è stato shock anafilattico alla base del decesso come si sospettava inizialmente gli approfondimenti medici hanno infatti rilevato come l'uomo si è caduto sulle arnie per un malore dovuto a problemi cardiaci non vedendo rincasare l'uomo i familiari si sono recati sul posto e hanno assistito alla terribile scena contattati i soccorsi si sono recati sul posto anche i vigili del fuoco di Urbino pompieri che hanno indossato delle tute di protezione ma nonostante questo alcuni di loro sono stati punti ripetutamente e costretti a farsi medicare dai sanitari con qualche difficoltà i vigili del fuoco sono riusciti comunque a liberare il corpo dell'uomo trasferendolo poi all'obitorio di Urbino Lutto nel mondo dell'imprenditoria infatti morto all'età di appena 50 anni il mobiliere Roberto Semprucci fondatore insieme al fratello Simone del noto mobilificio MCS Mobili di Villa Grande di Monbaroccio azienda leader nella produzione di prefabbricati proprio questa mattina l'azienda ha annunciato i suoi dipendenti che oggi non avrebbe riaperto per lutto Roberto Semprucci aveva fondato l'azienda da giovanissimo nel 1994 il funerale si terrà giovedì alle ore 15.30 nella chiesa di Villa Fastigi a Pesaro Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Fano per recuperare un capriolo caduto in un canale artificiale che collega il fiume Metauro al mare la squadra di Fano in collaborazione con il personale del centro recupero animali selvatici ha recuperato dapprima il capriolo dal fosso e successivamente dopo averne constatato lo stato di buona salute l'animale è stato portato in un luogo sicuro attraverso un comunicato stampa il sindaco di Fano Massimo Seri ha annunciato oggi di essere risultato positivo al Covid-19 e di trovarsi in isolamento domiciliare in buone condizioni di salute a sostituirlo negli imminenti impegni istituzionali sarà il vice sindaco Fanesi e gli altri membri della giunta comunale parliamo anche di cultura perché il festival d'arte drammatica GAD avvia da quest'anno una collaborazione all'insegna della mescolanza di prosa e poesie con Vaghe Stelle dell'Orsa la rassegna dedicata alla poesia italiana sostenuta dal comune di Pesaro in collaborazione con la biblioteca Bobbato gli incontri sono curati dalla poetessa pesarese Laura Corraducci ideatrice della manifestazione il primo appuntamento si terrà venerdì 22 aprile alle ore 21 nella chiesa dell'Annunziata in programma lo spettacolo non sapendo quando l'alba possa venire dedicato all'opera di Emily Dickinson ed ora parliamo delle porto di Pesaro che fra bassi fondali, vasca di colmata ed esigenze di dragaggio presenta una lunga lista di interventi da effettuare sollecitati da Andrea Biancani con una interrogazione in consiglio regionale vediamo proprio in questi giorni ho deciso di presentare un'interrogazione che riguarda il porto di Pesaro infatti voglio evidenziare che ritengo che sia urgente il dragaggio del porto perché senza dragaggio sono a rischio sia l'attività cioè il lavoro delle imprese delle attività di porto quelle sportive ma anche le attività ricreative dall'altra parte oltre a chiedere un dragaggio in tempi rapidi perché ritengo che questa sia la vera emergenza del porto di Pesaro oggi chiedo anche di accelerare rispetto alla vasca di colmata ricordo che per la vasca di colmata sono previste attualmente già 11 milioni di euro che sono stati stanziati dal ministero oltre alla definizione del piano del porto queste cose sono importanti anche per dare certezza ai tanti imprenditori che hanno deciso di investire nel corso degli anni nel porto di Pesaro ma anche per coloro che decideranno di farlo per il futuro il porto di Pesaro è diventato sempre più importante devo dire che negli ultimi anni sono stati fatti lavori anche di riqualificazione veramente notevoli però devo dire che senza il dragaggio tutte queste attività, tutti questi investimenti rischiano di essere messi a rischio quindi se dovessi dare una priorità devo dire che prima di tutto è necessario pensare in tempi rapidi a un dragaggio e portando avanti contemporaneamente sia il progetto della vasca di colmata per cui appunto sono già stati stanziati 11 milioni di euro e ovviamente il piano del porto il piano del porto è importante anche perché le varie attività economiche che hanno deciso appunto di rimanere nel porto di Pesaro hanno bisogno di prospettive e occorre tutte le attività culturali, commerciali, turistiche, industriali hanno bisogno di certezze rispetto a quello che possono o non possono fare per poter portare avanti la propria attività dall'altra parte sono stati stanziati anche 500 mila euro risorse importanti per l'installazione delle colonnine elettriche nel porto anche questo è un aspetto importante soprattutto dal punto di vista ambientale perché consentirebbe quelle imbarcazioni che attualmente sono ormeggine nel porto di peso e che devono tenere i motori accesi per produrre energia di poter spegnere appunto i motori e di utilizzare appunto le colonnine elettriche Parliamo ora di una corretta alimentazione e di prevenzione di malattie una tematica che da domani verrà sviluppata attraverso gli incontri di Salusmea presso l'azienda agricola Deleiva Parte mercoledì 20 aprile il ciclo di incontri Salusmea Riprendiamoci la salute Nello scenario bucolico all'aria aperta dell'azienda agricola Deleiva va in scena un ricco calendario di itinerari dalla terra alla tavola alla riscoperta della salute come diritto universale A promuovere il ciclo di incontri l'associazione a tutela dei diabetici di Pesaro da Bainos per una seconda edizione all'insegna della prevenzione La prima ha avuto il successo sperato non solo in numero di partecipanti ma anche per quelli che sono stati feedback estremamente positivi di un modello di percorso di salute esperenziale che ha trovato la sua valenza proprio nel fatto che l'esperenzialità porta ad un vissuto positivo e quindi alla possibilità di adottare un nuovo modello di vita in termini salutistici quindi invitiamo tutti ovviamente e tutta la popolazione non solo i diabetici perché vogliamo guardare avanti vogliamo guardare alla salute in generale per tutti anche per i diabetici attraverso questo modello le informazioni possono essere reperite attraverso la nostra mail che è diabainopesaro.gmail.com o attraverso la nostra pagina facebook che è Dabainos Pesaro Non solo attività fisica e alimentazione ma anche aspetto psicologico di cosa significa per una persona che si sente gravato da una malattia cronica cosa significa questo aspetto dal punto di vista psicologico perché i tre aspetti insieme del movimento dell'alimentazione e dell'aspetto psicologico rappresentano i tre pilastri sul quale agire per migliorare la situazione della malattia cronica il quarto sono ovviamente i farmaci e quindi tutti e quattro insieme possono dare veramente un contributo ma mentre quello dei farmaci è conosciuto ed è ad opera di noi medici quegli altri tre sono più difficili da tirar fuori ed è per questo che questa iniziativa serve proprio per stimolare le persone a tirar fuori quello che hanno dentro quello che possono dare con la loro attività Quello tra la città di Pesaro e il basket è un rapporto sempre più indissolubile Nella giornata di venerdì scorso è stato infatti inaugurato il nuovo negozio di Triple Basket in viale della liberazione che ha tirato attorno a sé numerosi appassionati L'amore tra Pesaro e il basket è un sentimento che va oltre ogni confine un legame indivisibile che si conferma sempre di più una connessione che si è rinnovata anche venerdì quando in viale dei partigiani è stato ufficialmente inaugurato il nuovo negozio Triple Basket Triple è già un marchio affermato sul palcoscenico italiano come il marchio numero uno in Italia degli specializzati basket e quindi quelli che stanno vicini al cestista Noi inizialmente in questa regione avevamo pensato a una zona come Senigallia perché copriva entrambe le province Poi semplicemente Pesaro ha dei numeri troppo forti per poter farsi scappare appena c'è stata l'occasione di potersi trasferire e senza nulla togliere a quello che già era la realtà Senigallia abbiamo deciso e capito che se volevamo crescere ulteriormente dovevamo spostarci in una realtà che ha una storicità e una cultura cestistica come la città di Pesaro Ci auguriamo che questa cultura ci permetta di lavorare tanto non solo con i cestisti tesserati ma anche con quelli che sono gli appassionati e soprattutto Pesaro vanta su base annua tanti eventi cestistici dalla Serie A della VL che poi questa è una bellissima settimana per aprire a Pesaro perché stiamo andando forte e tutti i tornei giovanili Quali prodotti sono esposti? Beh noi abbiamo tutti i prodotti di marchi che sono vicini appunto al mondo della palacanestro quindi Jordan, Adidas, Puma, Under Armour per la parte tecnica e poi oggi abbiamo la fortuna di avere un'esclusiva statale per quanto riguarda il marchio Rookie Basketball che è un marchio fatto da cestisti, da dei ragazzi che hanno appunto si sono ispirati molto a una serie tv come quella di The Last Dance e quindi ci presentiamo a Pesaro anche con questa bellissima novità e tutto quello che quindi serve a un cestista lo potete trovare nei negozi triple basket C'è anche questo collegamento NBA VL Pesaro, c'è un'immagine di Ford e c'è anche diciamo delle immagini iconiche dei diversi momenti storici dell'NBA Assolutamente, allora diciamo che le immagini iconiche sono delle immagini che devono oggi far sognare e ricordare a un bambino, a un cestista che magari ha qualche anno in più a chi ha vissuto il tuffo di Rodman e quindi vogliamo ripercorrere un po' tutto quello che è la storia del basket NBA degli ultimi 20 anni, 30, quelle che sono mentre Alfonso Ford era un mio idolo purtroppo è venuto a mancare e ci ha lasciato un vuoto incredibile per noi tifosi della Scavolini, Pesaro e attualmente della VL e quindi venendo a Pesaro io principalmente che sono un tifoso della VL e dell'allora Scavolini e per la città di Pesaro mi sembrava giusto dedicare uno spazio a quello che è stato uno dei giocatori che ci ha fatto di più innamorare di questo sport è un negozio molto bello per tutti coloro che vogliono le cose belle per vestirsi ma in particolar modo per tutti coloro che amano il basket è un momento felice per il basket si è ritrovato a Pesaro un grandissimo entusiasmo la stagione è ripartita proprio in questi giorni pasquali con un torneo con tantissimi ragazzi che vengono da tutta Italia quindi non c'era luogo migliore per farlo e anche posto migliore perché siamo in via dei partigiani vicino al vecchio hangar che stiamo ristrutturando e quindi anche un bel auspicio per quest'area che nei prossimi anni, nei prossimi mesi diventerà sempre più bella e sempre più attrattiva e questa era l'ultima notizia di questa edizione delle Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata questa sera infatti alle ore 21.20 c'è la tv dei viaggi Kenya ed Egitto e poi come tutti martedì e giovedì alle ore 22.30 c'è la replica di Pesce Azzurro Quiz Show mercoledì e venerdì poi alle ore 12.17 mentre domenica ci saranno le repliche delle puntate di martedì e giovedì tutte e due insieme alle ore 21.00 e poi mercoledì 20 aprile dunque domani alle ore 21.20 ci sarà lo spettacolo del gruppo teatrale Farofollie con una commedia dialettale e con questo è veramente tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale di Rossini TV e vi ringrazio per averci seguito